Mimmo Tiseo per l'Associazione Per Quarto ha incontrato il commissario straordinario Maria Grazia Nicolò. L'argomento che avete trattato? Siamo andati in un gruppo con il presidente dell'ingegnere Antonio Russo, Franco Cangiano, io Rosario Falco e abbiamo incontrato l'autoressa Nicolò appunto per discutere di vari temi dei problemi di quarto. Abbiamo parlato un po' per quanto riguardava la situazione dell'ex cementificio di via Armolito che è in corso un bando di concorso per la sua assegnazione, soprattutto perché a noi premeva chiarire se ci fossero dei problemi relativi allo smaltimento di rifiuti tossici presenti nella zona e la dottoressa è stata ben chiara che questo studio è stato effettuato ed è sicuro. Abbiamo parlato dell'acqua, casomai era possibile copiare un po' il sistema che è stato inaugurato a Pulsore per quanto riguarda le case dell'acqua e consente di utilizzare acqua dell'acquedotto pubblico trasformandolo in mineralizzato acqua semplice, dove praticamente riempendo i propri contenitori di plastica e di vede si evita anche in certo qual modo che si possa aumentare lo smaltimento di rifiuti perché questi elementi, questi contenitori verrebbero riutilizzati in continuazione. Abbiamo parlato anche di via Santa Maria dove è in corso, tra poco parte il bando per l'affido per la ristrutturazione di questa strada che ahimè è un'importantissima via cittadina ma che sicuramente nel periodo invernale patisce una serie di conseguenze, di allagamenti e quant'altro. Si è parlato anche per quanto riguarda le associazioni Incontriamoci che purtroppo abbiamo saputo che per motivi economici del Comune non è possibile fino a oltre il mese di gennaio prossimo ospitarli lì dove si trovano a Via Mauriello. Ci auguriamo che anche per questo gruppo di anziani che sono certamente importanti come siccome anche la consulta dei giovani si possano trovare una locazione adeguata da parte del Comune. Siete state ricevute e le risposte sono state soddisfacenti? Molto soddisfacente anche perché poi la dottoressa Niccolò per la verità credo che forse apprezzi il nostro impegno, il nostro lavoro che d'altra parte è dettato esclusivamente da motivi sociali di migliorare quello che è la vivibilità a quarto. Grazie per la visione! Grazie per la visione!